Accogliamo con un bel applauso Tony Erenzo Chi esegue le tecniche è il maestro Pagioncelli, chi esegue invece gli attacchi e subisce poi la ripercussione è il maestro Lorenzo Il buon appetito è il maestro Lorenzo Il buon appetito è il maestro Lorenzo Il buon appetito è il buon appetito Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.